gli alieni nordici o pleiadiani dalla loro presunta provenienza le pleiadi appunto sono insieme ai grigi erettiliani tre tipi di alieni più diffuse nell'ambito ufologico secondo quelli che sostengono la loro esistenza vivono spesso mischiati agli esseri umani perché avrebbero forme e caratteristiche umanoidi ed in particolare avrebbero una pelle di un colore che varia dal bianco a rosa molto chiaro anche gli occhi sarebbero molto chiari di color ambra verde o azzurro e leggermente a mandorla i capelli sarebbero biondi o addirittura platino la loro pelle risulterebbe essere molto sensibile ai raggi solari e la loro altezza varierebbe tra il metro e 75 di metro e 90 alcuni ufologi affermano che in passato queste creature sarebbero state scambiate per entità divine entrando nell'immaginario collettivo sotto varie forme fra cui angeli santi o comunque messaggeri divini e sempre secondo alcuni ufologi gli incontri ravvicinati con i nordici avvengono con maggior frequenza rispetto ad altre presunte razze extraterrestri ma l'incontro ravvicinato di cui parleremo oggi in questo video è davvero stupefacente perché oserei dire che più di un incontro ravvicinato si tratta di un incontro ravvicinatissimo infatti un'aliena nordica avrebbe seduto un terrestre ringrazio liandave 87 per avermi richiesto questo video scopriamo insieme questa incredibile storia antonio villas boas era un contadino brasiliano di 23 anni che lavorava di notte per evitare le alte temperature del giorno il 16 ottobre 1957 stava rando i campi vicino a san francisco g salis quando vide quella che descrisse come una stella rossa nel cielo notturno secondo la sua storia quella stella si avvicinò e crescendo in dimensioni antonio si rese conto che si trattava di una nave aliena approssimativamente circolare a forma di uovo con una luce rossa lampeggiante nella parte anteriore e una cupola rotante in cima l'imbarcazione aliena iniziò le manovre per un atterraggio nel campo dove si trovava antonio che a quel punto decise di darsi la gambe ma quando il contadino ha tentato di darsi alla fuga sul suo trattore si rese conto che dopo pochi metri luci e motori si spensero decise quindi di proseguire a piedi ma fu catturato da un umanoide alto circa cinque piedi che indossava una tuta grigia ed un casco antonio lo descrisse con dei piccoli occhi azzurri e invece di parlare la creatura emetteva rumori simili all'atrati o guaiti antonio cercò di divincolarsi dando una spinta all'alieno facendogli perdere l'equilibrio ma sopra giunsero altri esseri che bloccarono antonio sollevandolo dal suolo senza la possibilità di divincolarsi ed infine lo trascinarono sull'oggetto volante da questo momento in poi procederò con il racconto con le parole di antonio questa è la testimonianza che ha rilasciato in seguito finalmente mi lasciarono in una piccola stanza quadrata la luce brillante del soffitto metallico si rifletteva sulle pareti anch'esse di metallo senza interruzione senza alcuna ombra era una luce emessa dalle molte lampade regolate ed incastonate al soffitto tutte attorno alla sala inizialmente mi hanno lasciato per terra la porta d'entrata unita con la scala si era sollevata e chiusa l'interno era illuminato come fosse stata la luce del giorno ma anche in questa luce brillante non si percepiva dove era la porta che dopo che era stata chiusa si era completamente integrata alla parete soltanto la scala metallica indicava il posto dove avrebbe dovuto trovarsi uno dei cinque esseri presenti ha indicato con la mano una porta aperta e mi ha fatto capire che dovevo seguirlo in quella stanza attigua ho obbedito d'altronde non avevo altra scelta continuammo per questa stanza che è più grande della precedente ed è semi ovale le pareti splendevano come nella stanza precedente credo che ci trovavamo nel settore centrale dell'oggetto volante perché nel mezzo vi era una colonna rotonda apparentemente massiccia il cui diametro diminuiva nel suo mezzo difficilmente credo questa colonna si trovava là soltanto a titolo d'ornamento secondo me supportava il soffitto i soli mobili esistenti erano una tavola dai disegni strani ma squisiti e diverse sedie girevoli sembravano le nostre sedie dei banconi da bar tutti gli oggetti erano di metallo la tavola e le sedie avevano un solo piede nel centro e il tavola era fermamente fissato alla base e nelle sedie il piede poteva appoggiarsi a tre rafforzamenti orizzontali a scala inoltre le sedie si potevano muovere su tutti i lati gli esseri parlavano al mio cospetto quando dico parlavano è bene sottolineare che ciò che intendo dire e che non hanno niente a che vedere nemmeno la minima similitudine con i suoni umani né posso imitare la loro voce o parole tra l'altro quei suoni quei strani versi mi fanno ancora rabbrividire quando penso a loro improvvisamente sembravano essere arrivati ad una decisione tutti e cinque hanno iniziato a spogliarmi mi sono difeso meglio che ho potuto ho gridato mi sono divincolato tuttavia hanno continuato a spogliarmi fino a che sono rimasto completamente nudo durante tutto questo processo non sono arrivati a ferirmi né a strapparmi una qualunque parte dei miei abiti in conclusione io ero completamente nudo e con una grande paura perché non sapevo cosa sarebbe successo in seguito uno dei miei rapitori si è avvicinato a me tenendo qualcosa nella mano che mi sembrava una specie di spugna con la quale è passato con un liquido su tutto il mio corpo era una spugna ben morbida non una spugna comune ed il liquido era chiaro ed inodore tuttavia questa sostanza era più viscosa dell'acqua prima ho pensato che era una specie di olio ma non poteva esserlo perché la mia pelle non era né unta né oleosa inoltre quando ha passato questo liquido sul mio corpo ho sentito un freddo intenso anche perché all'interno dell'oggetto volante la temperatura era bassa mi sono messo a tremare e mi sentivo rabbrividire tuttavia il liquido si è presto essiccato e poco dopo non ho sentito più nulla intanto tre derapitori mi hanno sospinto per una porta dalla parte opposta a quella dalla quale sono entrato uno di loro ha toccato qualcosa al centro di questa porta che in seguito si è aperta ai due lati come una porta scorrevole tipo le porte di un ascensore al di sopra vi era una specie di iscrizione come pannelli indicatori queste lettere attaccate di uno o due centimetri in rilievo erano completamente diversi da qualunque dei simboli o caratteri che conosco ho cercato di registrarli nella mia memoria ma purtroppo non ci sono riuscito in compagnia di questi due esseri sono entrato in una piccola stanza quadrata illuminata come le altre stanze la porta si è chiusa dietro di me ma quando mi sono girato per osservare nulla aveva la forma di una porta soltanto una parete uguale alle altre improvvisamente la parete ha cominciato ad aprirsi e dalla porta sono entrati altri due esseri tenevano nelle mani dei tubi di gomma rossi alla fine uno di questi tubi era collegato a un recipiente di vetro a forma di calice dall'altra parte vi era una specie di beccuccio che sembrava una ventosa che hanno messo sul mio viso al di sotto del mento dove ancora ho una macchia scura che mi è rimasta come una cicatrice la creatura poi ha compresso il condotto di gomma fortemente con la mano come se volesse espellere tutta l'aria sin dall'inizio non ho sentito né dolore né prurito solo in seguito ho sentito che mi stava bruciando ed avevo una gran voglia di dormire infine ho scoperto che la pelle era stata ferita dopo che mi avevano inserito il tubo di gomma ho visto come il calice si è riempito lentamente del mio sangue fino alla metà lì allora si sono fermati hanno sfilato il tubo di gomma e l'hanno sostituito con l'altro ho subito un nuovo prelievo di sangue questa volta dall'altro lato del mento finito il prelievo sentivo sul viso prurito e bruciore finita questa operazione gli esseri sono usciti e sono rimasto solo in questa stanza per diverso tempo forse un'ora in questa sala non c'erano mobili a parte una specie di letto senza materassone coperte questo letto era incurvato sia in alto che in fondo non era molto comodo ma almeno era morbido come fosse stato di schiuma dopo tutto quello che avevo passato mi sono sentito stanco e quindi mi sono seduto su questo letto nello stesso momento ho sentito un forte odore sconosciuto che mi ha causato delle nausee ho avuto l'impressione di inalare del fumo spesso tagliente che mi ha lasciato quasi asfissiato quando ho esaminato la parete ho osservato una piccola quantità di fori incastonati sul soffitto all'altezza della mia testa simile ad una doccia da quale è uscito un fumo grigio che si è dissolto nell'aria da lì proveniva l'odore mi sentivo piuttosto male per cui sono andato in un angolo della stanza ed ho vomitato in seguito respiravo senza difficoltà ero molto spaventato e non capivo cosa volevano da me quegli esseri sembrava passata un'eternità quando il rumore di una porta che si apriva ha interrotto i miei pensieri mi sono girato ed ho visto una giovane donna avvicinarsi lentamente mi veniva incontro era completamente nuda svestita come me ero perplesso e apparentemente la trovava divertente l'espressione sul mio viso era molto bella completamente diversa da altre donne che conosco i suoi capelli erano morbidi e biondi quasi del colore del platino che le scivolavano giù dalla nuca con la riga in mezzo aveva grandi occhi blu a mandorla il suo naso era dritto e la forma del suo volto era diversa con zigomi alti e prominenti e con il mento dalla forma un po a triangolo le sue labbra erano molto sottili quasi invisibili e le sue orecchie erano esattamente come quelle delle nostre donne terrestri aveva il corpo grazioso come le nostre comuni giovani donne con seni ben formati fermi ed alti i fianchi larghi le gambe lunghe i piedi piccoli le mani sottili le unghie normali era di statura piccola e la sua testa arrivava a malapena alle mie spalle questa donna si avvicinò a me in silenzio mi ha osservato con i suoi grandi occhi ed ha iniziato a sfregare il suo viso sul mio e premendo il suo corpo contro il mio aveva la pelle bianca e le braccia piene di efelidi ho sentito l'odore del suo corpo che era tipicamente femminile poi la porta è tornata lentamente a chiudersi restato solo con questa giovane donna non mi ha lasciato dubbi riguardo le sue intenzioni ero fortemente eccitato e considerando la situazione nella quale mi trovavo questo sembra una cosa molto improbabile ma credo che questo forse sia avvenuto a causa del liquido che mi hanno passato sul corpo io so soltanto che non riuscivo più a frenare il mio appetito sessuale e mi sono ritrovato a non pensare più a nulla non ho più rifiutato le avance della giovane donna e le sue carezze è stato un atto normale e si è comportata come qualsiasi altra donna in seguito mi sembrava stanca e respirava con difficoltà emetteva dei suoni simili a un ringio e non sapeva baciare ma mi dava dei morsi leggeri sul mento ho trovato comunque molto strano che i peli delle sue ascelle quelli del pube fossero del colore rosso sangue poco dopo che i nostri corpi si erano separati la porta si è aperta ed uno degli esseri è apparso ed ha chiamato la giovane donna che prima di uscire dalla sala si è girata verso di me indicando prima il suo ventre con una specie di sorriso e poi ha indicato il cielo in seguito è uscita ho interpretato questo gesto come se volesse dirmi che presto sarei diventato padre e che sarebbe ritornata e che sarei potuto andare a vivere con lei nello spazio ancora oggi sono enormemente preoccupato e pieno di paura al solo pensiero che se tornassero e mi rapissero nuovamente sarei definitivamente perso in nessun modo sono pronto a separarmi dalla mia famiglia ed abbandonare la mia terra a questo punto l'essere mi ha ridato i miei abiti con cui mi sono rivestito ed ho ritrovato tutti i miei effetti personali tranne il mio accendino che poteva essere caduto al suolo durante la colluttazione con gli esseri siamo tornati nella stanza dove al centro c'era la colonna rotonda dove tre dei membri dell'equipaggio si trovavano seduti su sedie girevoli grugnivano tra di loro credo fosse il loro linguaggio e quello che era venuto a prendermi ha raggiunto gli altri e mi ha lasciato solo mentre parlavano ho cercato di registrare nella memoria tutti i dettagli del mio incontro ed osservavo minuziosamente tutto quanto avveniva i cinque esseri vestivano una blusa grigia molto aderente spessa morbida in alcuni punti attaccata con cinghie nere per coprirsi la testa del collo utilizzavano un casco dello stesso colore questo casco copriva tutta la testa lasciando aperto soltanto gli occhi che ho potuto distinguere attraverso qualcosa che sembrava un paio di occhiali rotondi all'altezza dei fianchi ho osservato tre tubi rotondi d'argento non so dire se erano di gomma o di metallo il tubo centrale scendeva dalla colonna vertebrale a sinistra e a destra scendevano gli altri due tubi fino a 10 centimetri al di sotto delle ascelle non vi era nessuna depressione o ammasso che indicava un collegamento tra questi tubi e un recipiente o uno strumento nascosto al di sotto della blusa la blusa non aveva né tasche né bottoni i pantaloni erano lunghi e attillati e continuavano una specie di scarpe senza tuttavia vedere dove finiva il pantalone e dove cominciava la scarpa o stivaletto le suole delle scarpe avevano da 4 a 7 centimetri di spessore erano ben diverse dalle nostre scarpe e leggermente incurvate in cima gli esseri si muovevano abili e rapidi erano tutti della mia altezza circa un metro e 64 tranne uno che non arrivava neanche all'altezza del mio mento erano fisicamente forti ma non al punto di averne timore credo che in un incontro di lotta su una base uguale non avrei dubbi ad affrontare qualunque di questi esseri comunque alla fine antonio venne escoltato fuori dalla nave e quando tornò a casa scoprì che erano trascorse quattro ore in seguito a questo presunto evento il ragazzo ha sofferto di nausea e debolezza oltre a mal di testa e lesioni sulla pelle che si manifestavano con qualsiasi tipo di leggero livido alla fine contattò il giornalista josé martin che aveva pubblicato un annuncio su un giornale alla ricerca di persone che avevano avuto esperienze con gli ufo il giornalista dopo aver ascoltato la storia di antonio contattò il dottor olavo fontes della scuola nazionale di medicina del brasile fontes esaminò antonio e concluse che era stato esposto a una grande dose di radiazioni antonio in seguito divenne avvocato si sposò ed ebbe quattro figli morì nel 1992 ma rimase fedele alla sua storia e quindi al suo presunto rapimento per tutta la vita ma come sempre ti chiedo di farmi sapere cosa ne pensi tu se credi a questa storia o forse antonio ha sognato o ha mentito fammi sapere cosa ne pensi qui sotto nei commenti e mi raccomando se vuoi sostenere questo canale lasciami un like o iscriviti nel caso non fossi iscritto è gratuito ed io te ne sarei davvero molto grata in ogni caso ci vediamo prestissimo se vuoi nel prossimo video